Io non sono tra quelli che ha festeggiato la chiusura degli impianti della centrale di Vado Ligure, non sono tra quelli che quando chiude una cartiera pensa che si è fatto un passo avanti dal punto di vista ambientale. In realtà la provincia di Savona aveva una grandissima tradizione industriale e migliaia e migliaia di posti di lavoro, soltanto qualche lustro fa. L'aver abbandonato quel modello di sviluppo oggi provoca livelli di occupazione, giovanile molto elevati che non possono trovare una risposta soltanto col turismo, con la valorizzazione culturale e paesaggistica del territorio, che pure è una realtà ed è una cosa importante, ma l'industria compatibile credo che debba essere oggi all'interno di un piano non solo della provincia ma dell'intera regione.